Quanto muore mai, vabbè? Oggi si è nato finito, vabbè? Mi stai rilasciato dentro il tuo colpito Versaglio qui! Incarna! Non ci avessavo nulla che... ...arribeva un sconto e ormai vincevi Mi deve venire la macchina Basta Dove l'intorno? Potete agiti? Ottimo Battle Royale Si, ti serve Indica un punto di lancio per il video Si, prendo io Avete gas in avvicinamento Ecco, quella è la zona di lancio Allora raga andiamo veloce No merda ce l'ho impurato Dov'è? Dov'è noi? No, no davanti Vi, vi, vi Ho traccavato via Ho traccavato via Ho traccavato via No, no, no Dov'è noi Questa è un altro Mi devo essere l'altro Eh, eh, mo' è lui No, no, no Non ci vedo No, no, no Compagno aiuto Visto! Io ho trascito! Dio, porra Compagno inviato nel gulag Combatterà per poter tornare in azione come stai messo? dai vabbè dai dai che avevo fatti qua? oh è un'azione attenti eeeh 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 sono sono finiti due io fai vintre il murag no manca uno allora soldato nemico in arrivo sul tetto mi dirigo là eliminato sfigato brutta ho dei colpi per la carriera vado da questa parte arrivata 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 e sopra qui dentro ti metti scendiali scendiali no stavo come un coglione che cosa ti ha detto quando sono morto io c'è uno che è trascato beh l'ho ammazzato ora sei nel buio lotta per tornare in azione preparati a combattere sei il prof sentami non è andato non è andato vinci questo scontro e torni in prima linea perdi e per te e pinta elimina il nemico o conquista l'obiettivo e l'ho ammazzato hai una piastra hai un po' giù che è trascato recognise risponde prepara asciato armoni frappardo solo no so un arrivo 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 manda pure! rivendicarti! infiati! attacca una carica! l'altro 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 ottimo eh! l'espegno neutralizzato! ti mani intanto! arriva un lato di compagamento! buono maestro! buono buono buono! vieni duri maestro! si alza lì! eh io se mi sentiamo ma lì! si lo fa! si lo fa ancora coccoli all'albero per te! ok! morì vedi al fantasma ragazzi fai 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 pc è unaerasq mucha! Wab' enemico in volo! NO! guarda che pamphrey adventure! E' arrivato in gas E che cazzo, non era per morire, non soppogliate, sta mortissimo, qua sopra, hanno saccatato l'aria, ce l'hanno sentito la scata, è andato colpito, è avento il treno, Come suan terra, Domicè delinco il boy, 10 rimasto, 16 quasi, gas in movimento, nuova, zona sicura individuata, bombardamento di precisionecipando a protezione, state perdendo terreno. C'è un terreno per wem로. Terra un di. Aspetta, aspetta, aspetta Vamo bene, ragazzi Vieni, vieni Vieni, vieni Senti, vieni Senti, vieni Porta a casa la vittoria Ci resti solo tu Vatti Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Forza Big, big, big No, abbiamo col Spennec, ragazzi, un criminale Che è successo? Ho vinto, ho vinto Non lo so Infatti dici e prendi Aspetta Come la casa ti brucia Spennec è una cosa clamorosa, ragazzi Ti brucia, ti brucia No, no, no Un secondo Sei in terra Si è riuscito a arrivare via A me è fantasma Poi mi hanno atterrato, mi sarà arrestato Mi hanno atterrato, mi stavo arrestando E mi ha finito Ho avuto che non c'era l'autorezzo alla fine A me si Eh, io sono entrato La cazzo, ho buttato in terra Non c'era l'autore Non c'era l'autore Non c'era l'autore Non c'era l'autore questa Vedi un po' come si è riuscito L'hanno fatto Aspetta 8 Tutto all'ultimo ho fatto regà Oh, io ho fatto più danni ai tutti E me lo chiedi